Le autorità americane hanno ufficialmente incriminato Esteban Santiago, l'americano veterano dell'Iraq, che venerdì ha sparato all'aeroporto di Fort Lauderdale di Miami, in Florida, uccidendo 5 persone e ferendone 6. Lunedì Santiago dovrà presentarsi in tribunale per rispondere di omicidio plurimo a mano armata e atti violenti in un aeroporto internazionale. Se condannato rischia la pena di morte. Il fratello dell'imputato del Puerto Rico ricorda che Esteban, già paziente e psichiatrico, andò dall'FBI a dire che la sua mente era controllata. Lo sapevano da tempo, non possono dire che si tratti di una persona che ha agito dalla sera alla mattina. Loro sapevano già dei pensieri che aveva, questo mi fa arrabbiare. Voglio essere chiaro, non è mai stato musulmano, vanno dicendo su internet che si radicalizzò e cose del genere. Non è mai accaduto, non ha mai fatto parte di movimenti islamisti. Intanto l'aeroporto di Fort Lauderdale è tornato alla normale attività per le autorità federali. È chiaro che Santiago ci sia andato con l'intenzione di compiere l'attacco, ma non si sa perché abbia scelto proprio lo scalo di Miami come scena del crimine.